Scendete il televisore. È domenica. Oggi, 13 ottobre 2024, il pubblico di Rai 1 è in attesa di una puntata, indimenticabile di domenica, in... condotta dalla carismatica Mara Venier, affettuosamente conosciuta come la zia d'Italia. Si vocifera che ci sia una carrellata di ospiti straordinari. Ma uno, in particolare, farà sobbalzare i cuori degli spettatori. Raoul Bova, l'attore, famoso per il suo fascino innato, è qui per raccontare un nuovo capitolo della sua vita professionale, la quattordicesima stagione di Don Matteo. Mentre il tema dell'amore sarà centrale, una sorpresa è riservata ai fan. Una incursione nella sua relazione con Rocio Munoz Morales, una storia che scalda i cuori e accende la curiosità. Ma prima di addentrarci in queste pagine che scorrono rapidamente, ripercorriamo, insieme la straordinaria ascesa nel mondo dello spettacolo di Bova. La sua carriera televisiva, ebbe inizio nel 1991 nel programma Scommettiamo, che, segnando l'inizio di un'avventura che sarebbe poi continuata sul grande schermo con Mutande Pazze di Roberto D'Agostino. Fu nel 1993 che Bova ottenette il suo primo ruolo da protagonista nel film Piccolo Grande Amore di Carlo Vanzina, dimostrando di avere non solo il volto, ma anche il talento necessario per conquistare il pubblico. Chi lo ha seguito nel tempo ricorderà il successo nazionale e internazionale del 1996, con Palermo o Milano solo andata, un poliziesco che lo catapultò tra i volti più amati d'Italia. Quello stesso anno, la sfida era doppia, recitare Nella lupa, un film tratto da un racconto di Giovanni Verga, e assumere il ruolo impegnativo del vice commissario Breda in La Piovra 7. Poi, un aneddoto che pochi conoscono, nel 1998, dopo aver interpretato il carismatico capitano di Stefano nella serie Ultimo, venne richiesto dalla regina del pop Madonna, per uno spot pubblicitario della Max Factor. Un'opportunità che documenta non solo il talento di Raoul Bova, ma anche il suo irresistibile carisma. E non possiamo dimenticare il 2001, anno in cui fu protagonista del Testimone, e prese parte al suggestivo film di Pupi Avati, i cavalieri che fecero l'impresa. Nel 2002, il viaggio, continuò sotto la direzione di Lina Wertmüller nel film Francesca enunziata accanto a leggende del cinema, come Sofia Loren. Raoul Bova, un nome che non solo evoca immagini di successi cinematografici e televisivi, ma anche l'incanto di un'icona che non smette mai di sorprendere. E oggi, con la sua apparizione a Domenica e in promette di regalarci un pomeriggio di intrattenimento delizioso, e, chissà, soddisfare la curiosità sui segreti che solo lui potrebbe svelare al termine della puntata. Non cambiate canale, ogni secondo promette di tenervi incollati al piccolo schermo.